Eccoci qua, ho cambiato set e vicino a me, accanto a me, è il piacere di presentarvi Maria Pistorello della segreteria dello SPI CGL di Vicenza, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. Quando abbiamo Maria Pistorello abbiamo sempre i numeri, i calcoli e le situazioni realistiche che possiamo darvi, può darvi, perché io non sono in grado di farlo, delle prospettazioni di quelli che sono gli aumenti, poi ci dirà se ci sono stati, in che termine, delle pensioni con l'inizio dell'anno nuovo. Quindi voi seguite con attenzione, perché poi Maria Pistorello, che è appunto molto attente in questo senso, ha fatto valutazione all'order netto, ha fatto questo lavoro in più, perché sa che da parte vostra c'è sempre un po' una richiesta di capire meglio quanto prendo, quando non prendo in base su quello che mi risulta nel cedolino, insomma. E allora, a lei la parola. Bene, grazie. Siamo a gennaio, all'inizio di questo mese, con la pensione nel mese di gennaio, c'è stato il riconoscimento dell'aumento della pensione, quella che si chiama rivalutazione annuale delle pensioni. Il tasso di rivalutazione quest'anno è del 5,4%, le pensioni sono state rivalutate in questo modo, non tutte naturalmente. Da due anni abbiamo un sistema di rivalutazione che non supporta le pensioni in modo ottimale, ma anzi, essendo molto scaglionato, secondo la fascia di reddito, dà degli aumenti differenziati. Più è alta la pensione, meno è l'aumento. Noi pensiamo comunque che tutte le pensioni dovrebbero essere aumentate secondo il tasso di inflazione, poi sarà la tassazione, eventualmente il fisco che opererà la trattenuta per fascia qui di reddito e quindi chi più prende paga di più, ma la pensione, siccome il lavoratore e la lavoratrice se l'è guadagnata versando per tanti anni, minimo 40 anni, i contributi e quindi è giusto darle la rivalutazione, che è una rivalutazione che si calcola sulla base di quella che è stata l'inflazione dell'anno precedente. Allora, questo l'abbiamo del 2024, quindi qua dice 5,4% che era quello che stava dicendo prima, con aliquote decrescenti. Esatto, e questo infatti fino a 2.200 euro, che sono 4 volte il trattamento minimo, l'aumento è stato del 5,4 e dopo a scalare sempre meno. Il tasso è stato calcolato in base al tasso di inflazione dell'anno precedente, l'anno scorso sappiamo anche a causa dell'aumento dell'energia quanti soldi, quanto ci è costato fare la spesa, noi diciamo anche sempre che questo sistema non va a coprire quella che è l'effettiva perdita del potere d'acquisto che hanno avuto le pensioni nell'anno. Comunque questa prima diapositiva ci dice questi dati qua, quindi c'è stato un aumento anche per quanto riguarda il trattamento minimo di pensione, quest'anno si è assestato a 598 euro ed è stato incrementato ulteriormente di 16 euro mensili, per cui quest'anno chi ha diritto all'integrazione al trattamento medio per intero avrà 614 euro. Possiamo andare anche alla diapositiva successiva. Esatto, ricordiamo che è cambiata anche il sistema di tassazione per quest'anno, siamo passati dalle 4 alicote precedenti a quella attuale, a quelle a 3 attuali, ma purtroppo per chi ha un reddito fino a 15 mila euro e moltissimi pensionati, non solo nella provincia di Vicenza, ma in tutto il Veneto, moltissimi pensionati sono al di sotto di questa cifra e purtroppo per loro non è cambiato niente, perché il 23% lo pagavano prima e continueranno a pagarlo anche adesso. Stiamo parlando sempre di pensioni. Stiamo parlando di pensioni, certamente. Per fare un esempio, facciamo anche qualche esempio. Abbiamo quindi la slide successiva. Sì, una pensione, un pensionato che ha un reddito netto, perché parliamo di netto. Allora, il netto è quello scritto in grossetto. Esattamente. Il netto è la seconda colonna, ha un netto di 769 euro e sono tantissimi i pensionati che hanno la pensione intorno a questa cifra. Quindi la prima vediamo proprio quello 567, vabbè, 769, quindi la seconda cifra in alto della seconda colonna. Esatto. Qui vuol dire un lordo di 843. Esattamente. Ha avuto di aumento per la rivalutazione delle pensioni 43 euro, che però al netto sono 30 euro di aumento. Quindi si troverà, dovrebbe trovarsi nella pensione, avrebbe dovuto trovarsi nella pensione del mese di gennaio 30 euro in più. Poi andiamo a chi ha 900 euro di pensione nette. Quindi nel lordo avrà, no scusate, avrà un aumento lordo di 54 euro, quindi 909 di pensione netta. Avrà un aumento di 54 euro, che poi al netto sarà solo 38 euro. Quindi queste sono le cifre, per sap poco. Andiamo a quella che è una pensione di 1252 euro. Non stiamo parlando di pensioni alte, come vedete sono pensioni magari di un operaio che ha passato tutta la vita a lavorare in fabbrica. Allora che ha un lordo di 1500, che però al netto l'anno scorso era di 1250 circa. Poi quest'anno ha un aumento mensile di 81 euro nella propria pensione, che diventano poi 55 nette. Perché? Proprio per effetto del fatto che si pagano le tasse sulla pensione, c'è una no tax area, cioè c'è un limite entro il quale non si paga nulla e sono 8500 euro annuali, ma oltre questa cifra si comincia a pagare l'IRPEF. Oltre all'IRPEF poi nel corso dell'anno il pensionato paga anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale. E quindi insomma ci sono anche altre trattenute. Vediamo che l'aumento più rilevante, cioè da 91 euro fino a 85, poi c'è anche 99, 85, è la fascia praticamente di pensioni nette da 1524 a 3100. Sì, esatto. Ed è la fascia anche centrale che nella modifica della tassazione IRPEF avrà un lieve beneficio perché si passerà da una tassazione di due punti inferiore a quello che si pagava prima. Perché da 15.000 a 28.000 euro si pagava il 25%, adesso si andrà a pagare il 23%. Come dicevo prima, fino a 15.000 euro però di pensione l'orda annua non si vedrà nessun tipo di beneficio. Quello che ci dispiace come sindacato pensionati è comunque che anche quest'anno, l'anno scorso ma ulteriormente anche quest'anno, lo Stato va a prelevare soldi, a trattenersi soldi dalle pensioni. Con una modifica che c'è stata nella previdenza per chi deve andare ancora in pensione, magari adesso lo dirò così a titolo, ma soprattutto per il fatto che non si fa più la rivalutazione a fasce, a scaglioni, questo ha portato a un risparmio naturalmente da parte delle casse dello Stato. E parliamo di alcuni miliardi. Noi infatti siamo scesi in piazza non a caso anche il mese scorso a dire basta, basta considerare le pensioni come un banco ma a cui ricorrere quando si ha bisogno di recuperare dei soldi dopo da spendere in altre cose. Perché pensiamo che chi ha versato i contributi durante tutta la sua vita lavorativa abbia adesso il diritto di godersi la sua pensione e di non vederla perdere valore anno dopo anno. Questo per noi è molto importante. Accennavo prima le modifiche fatte in sede di finanziaria. È stata mantenuta la quota 103 che prevede un tot di anni che sono 62 anni almeno di età e 41 anni di contributi e che però penalizza i pensionati perché calcola la loro pensione interamente con un calcolo contributivo. Cioè su quello che tu hai versato in tutto l'arco di età. Poi c'è stata... Devi stare un po' attenti anche adesso. Certo, bisogna farsi fare i calcoli bene prima di decidere di andare in pensione con la quota 103 perché è stata veramente penalizzata. È stata peggiorata rispetto a prima. Per quanto riguarda l'ape sociale invece, cioè la possibilità per alcune categorie di lavoratori di andare in pensione prima perché stanno facendo dei lavori cosiddetti gravosi, lavori molto pesanti, anche qua è stata peggiorata perché è stato aumentato di 5 mesi il limite per andare in pensione anticipatamente per non parlare dell'opzione donna che è stata peggiorata in maniera incredibile lo scorso anno ma che quest'anno è stata ulteriormente peggiorata. Ecco, forse questo è anche importante dire perché tante persone non tengono conto di questo aspetto perché sono prese dall'emergenza di magari dover accudire dei familiari eccetera. Però attenzione perché poi queste posizioni vanno a cristallizzare quello che tu prendi per tutta la vita. Sì, tu lo prendi poi per tutta la vita. Non è che dopo raggiungi l'età pensionabile e si ricalcola un po' Sia quota 103 che anche opzione donna oppure un lappe, giusto? Quindi questo è molto importante ricordarlo. Sì, esatto, bisogna ricordarlo infatti perché bisogna ricordare anche un'altra cosa importante, la speranza di vita. Prima del Covid avevamo visto che c'è un trend per cui si vive più a lungo. la speranza di vita, tra l'altro le donne vivono più a lungo anche degli uomini e a mano a mano è stata introdotta questa norma per cui se si vive più a lungo si allunga l'età pensionabile. Troppo quindi con il Covid c'è stata una frenata di questo aumento della speranza di vita. Però ricordiamo che dal 2025 pende su coloro che dovranno andare in pensione la spada di Damocle perché potrebbe essere che i 67 anni che servono ora per andare in pensione con l'età, con la pensione di vecchiaia, potrebbero essere aumentati. Noi chiediamo che questo venga a costo. Ma quindi in proiezione futura si potrà arrivare tranquillamente a oltre 70? Ah ma certamente, se si va avanti così, sì, per carità si vive più a lungo. Ma poi noi chiediamo che si decida una volta per tutti quanti, chi lavora adesso, anche i giovani che lavorano adesso, dovrebbero sapere con esattezza ma io quanti anni di contributi dovrò versare per avere diritto alla pensione. Bisognerebbe porre un punto su questa questione in modo che ci sia la certezza di quando si andrà. Abbiamo visto in questi anni che i provvedimenti poi vanno sempre a modificare in corsa. Per cui un lavoratore che ha cominciato la sua attività lavorativa 20 anni fa aveva delle prospettive di date per andare in pensione e poi sono state completamente disattese. E quel che è brutto è che sono state peggiorate perché se fossero migliorate... Sarebbero un accetto di sacrificio. Esattamente. Altra questione... Velocissima. Sì, sì, dicevo, dobbiamo ricordarci però che il sindacato pensionati CGL è a disposizione dei pensionati e delle pensionate. Facciamo vedere l'ultima slide così vedono le sedi. Benissimo, noi abbiamo un sistema di calcolo che ci permette di fare un controllo per capire se la rivalutazione è stata fatta nella maniera giusta. Ma non solo, siamo in grado anche di fare il controllo della busta paga del pensionato e di capire se magari negli anni ha maturato dei diritti che come ben sappiamo, l'abbiamo spiegato molte volte, soprattutto da questi studi, che delle volte si maturano dei diritti ad avere l'aumento della pensione ma con il sistema attuale se non si fa la domanda non si può avere questo diritto. Quindi venite nelle nostre sedi, qui c'è scritto, ci sono i recapiti di tutti, ci sono i numeri di telefono di tutte le sedi principali del sindacato pensionale. Principali, perché poi ci sono quelle secondarie. Esattamente, del sindacato pensionati del Veneto. Se non sapete qual è la sede più vicina a voi, lo potete chiedere qua, oppure se già sapete dove siamo, insomma, raggiungeteci nelle nostre sedi e diamo ben volentieri tutela e soprattutto supporto alle pensionate e ai pensionati che si rivolgono a noi. Certo, Maria Pistorello, grazie. Come sempre molto attenta anche ai particolari che ha sottolineato e alle sue parole. Quindi prestate attenzione e rivedete poi eventualmente la nostra puntata sul web perché ha sottolineato alcuni passaggi, alcuni punti che non sono di poca importanza. Quindi non prendete appunto alla leggera certe situazioni, fatevele controllare e valutare. L'importante è capire che quando si fa una scelta quella permane per tutta la vita. Non si sa che magari dopo cinque anni possa servire un aiuto domestico, l'abbiamo sempre detto, spese impreviste. Anche quei 50 euro, 100 euro al mese fanno la differenza, vero? Allora, grazie ancora alla nostra ospite. Cari telespettatori, noi andiamo in pubblicità, però come avete capito la trasmissione è all'inizio e quindi seguiteci perché abbiamo tante altre belle interviste. Buonasera a te.